in quegli anni pochi sanno che la cgl si diede un tra virgolette un'organizzazione clandestina era fatta di dirigenti che ogni camera del lavoro nominava persone esperte alla lotta al terrorismo che che dipendevano direttamente da roma interlochevano con roma e che ci orientavano nel capire quello che stava succedendo questa struttura molto diffusa della cgl fu una delle grandi scelte che lama il gruppo dirigente fecero per combattere il terrorismo prima ancora dell'uccisione di guida rossa questa inizia giunti fa l'unico direttivo della cgl sul terrorismo sono ci pensa in dieci anni di terrorismo c'è un solo direttivo nazionale della cgl che è impensabile adesso per ogni cosa facciamo direttivo ne fecero uno che è quello che giugne poi indica come risposta e una di queste risposte fu una struttura che lì non viene ufficializzata ma che viene detta che costruiamo un nostro punto di vista fuori dalla prefettura e che ci consente di capire cosa succede noi avevamo personaggio un compagno della cgl si chiama zucchi che poi è andato ha messo su un'agenzia privata di investigazione privata finito negli anni dopo che lui era con mezza una bolognina nessuno capiva cosa faceva lui non diceva a nessuno quali era la sua funzione ma aveva il rapporto con la digos aveva il rapporto con tutti e avere rapporti con roma e ci indicava tutte le volte i rischi che correvamo nella decine di manifestazioni fra quelle spontanee quelle non spontanee quelle per il contratto quello per il licenziamento di 61 quello per la fiat cioè che in quel periodo noi abbiamo fatto questa struttura ha durato lui per un lungo periodo ci indicava i rischi e i tranelli che c'erano e le persone che ci venivano a contattare chi potevano essere ed è stato davvero una cosa preziosa fu un lavoro importante noi ci siamo difisi meglio poi ci sono stati episodi alla menarini alla ducati ci sono stati anche a bologna ma molto meno io ho vissuto tutti però erano marginali non erano gruppi dirigenti della fiom del partito del sindacato erano persone che tu non ci sarei mai aspettato noi abbiamo avuto che io ho avuto un conosciuto personalmente una che poi è rientrata dopo dieci anni e quindici anni che è stata in sud america era scappata una di quelle condannate della minganti aveva partecipato lei direttamente non in prima persona però faccia parte del gruppo a un attentato di gambizzazione di un dirigente della della menarini quanto è rientrata io che la conoscevo lei era un impiegata una che si metteva poco in luce nel sindacato partecipava alle assemblee ma non parlava mai però faceva parte di questi gruppi quindi erano persone che era anche fatica da individuare almeno nella realtà bolognese questo è stato